Ciao a tutti! Oggi stiamo per intraprendere un viaggio un po' speciale. Ti sei mai chiesto dove potresti andare se dovessi fare una vacanza tutto da solo? Dove potresti recarti per ritrovarti, immergerti in una nuova cultura o semplicemente per provare qualcosa di diverso? Bene, sei nel posto giusto. In questo video, esploreremo i migliori posti del mondo per viaggiare da soli. Reykjavik, Islanda. Non solo questa è una delle città più sicure al mondo, ma è anche un punto di partenza perfetto per esplorare le meraviglie naturali dell'Islanda, come le cascate, i geyser e le aurore boreali. Reykjavik, la capitale dell'Islanda, è una città affascinante, famosa per il suo panorama urbano caratterizzato da case color pastello e la moderna cattedrale al Grimskirkia, rendendola una destinazione affascinante per il viaggiatore solitario in cerca di bellezza naturale e design nordico. Nonostante sia la capitale, Reykjavik ha un'atmosfera accogliente e rilassata, con caffè accoglienti, gallerie d'arte affascinanti e una scena musicale vivace, il tutto facilmente esplorabile a piedi o in bicicletta. Reykjavik è anche la porta ad accesso a molte delle incredibili meraviglie naturali dell'Islanda, dai geyser sputafuoco ai campi di lava, dalle cascate mozzafiato alle piscine termali come la famosa Laguna Blu, offrendo infinite possibilità per avventure all'aria aperta. E se sei fortunato, potresti anche avere l'opportunità di vivere uno degli spettacoli più affascinanti della natura, l'aurora boreale, un'esperienza indimenticabile che da sola vale il viaggio a Reykjavik. Barcellona, con le sue strade vivaci, i suoi edifici colorati e i suoi luoghi storici, offre un'esperienza indimenticabile per il viaggiatore solitario, unendo una ricca cultura artistica a una vibrante vita notturna. Un viaggio solitario a Barcellona non sarebbe completo senza passeggiare lungo la Rambla, esplorare il labirinto del quartiere gotico, o ammirare le incredibili opere di Antoni Gaudí, come La Sagrada Famiglia e il Parc Ghel. La città di Barcellona offre un'incredibile varietà di esperienze gastronomiche, dall'etapa sei mercati locali come la boqueria, dove è possibile immergersi nella cultura culinaria catalana e provare piatti locali come la paella e il crema catalana. E dopo una giornata di esplorazione, nulla batte il rilassarsi sulla spiaggia di Barcelloneta al tramonto, un momento di tranquillità che permette di riflettere sulle esperienze vissute e di prepararsi per le nuove avventure che attendono il giorno successivo. Lisbona, Portogallo Lisbona, la città delle sette colline, affascina il viaggiatore solitario con le sue strade acciottolate, le sue case colorate con i tradizionali azuleiosi e una vista mozzafiato su ogni collina, offrendo una miscela unica di storia, cultura e bellezza naturale. Prendere un antico tram 28 e percorrere il cuore della città, scoprire il quartiere storico dell'Alfama, o ascoltare l'intensa musica del fado in un piccolo bar locale, sono solo alcune delle esperienze uniche che Lisbona può offrire al viaggiatore solitario. La città di Lisbona è un vero paradiso gastronomico, con una varietà di piatti locali come il bacalao, le paste sdenata e un bicchiere di vino verde o di gingia, un'opportunità per sperimentare la ricchezza della cucina portoghese. Infine, un viaggio solitario a Lisbona non sarebbe completo senza una visita a Belem, dove si può esplorare il monastero Dossi Eronimos e la torre di Belem, entrambi patrimonio dell'UNESCO, e assaporare le deliziose paste sde Belem in una pasticceria locale. Melbourne, Australia Melbourne, spesso considerata la capitale culturale dell'Australia, offre un mix stimolante di arte, musica, cibo e moda, rendendola un luogo eccitante per il viaggiatore solitario alla ricerca di un'esperienza urbana dinamica. Passeggiare per le strade di Melbourne è come visitare una galleria d'arte a cielo aperto, con le sue famose opere di street art che adornano le strade laterali e i vicoli, offrendo un'esperienza unica e colorata. Da non perdere è la scena culinaria di Melbourne, che vanta una vasta gamma di caffè hipster, food truck, mercati degli agricoltori e ristoranti di alta cucina, garantendo che ogni pasto sia un'avventura in sé. Nonostante sia una grande città, Melbourne offre anche una miriade di parchi e giardini dove i viaggiatori solitari possono rilassarsi, fare un picnic o semplicemente leggere un libro, come i Royal Botanic Gardens o i Fitzroy Gardens. Costa Rica Con la sua straordinaria biodiversità e le sue splendide coste, è una destinazione di sogno per il viaggiatore solitario amante della natura, offrendo un'ampia gamma di avventure all'aperto, da trekking nella foresta pluviale a surf sulle onde dell'oceano Pacifico. Perdersi nelle numerose riserve naturali e parchi nazionali del paese, come il Parco Nazionale Manuel Antonio o il Parco Nazionale Corcovado, permette di avvicinarsi a una moltitudine di specie animali, tra cui pappagalli, scimmie, puma e persino perezzosi. La Costa Rica è anche famosa per i suoi vulcani, come il maestoso Arenal o il Poas, offrendo la possibilità di fare trekking su terreni vulcanici o di rilassarsi nelle sorgenti termali naturali. Infine, la Costa Rica offre anche una ricca cultura da esplorare, con la possibilità di visitare le piantagioni di caffè, di imparare a preparare piatti locali come il gallo pinto, o di partecipare a una lezione di lingua spagnola, rendendo ogni giorno un'esperienza unica e coinvolgente. La Croazia, con la sua splendida costa adriatica, le affascinanti città storiche e le numerose isole, è un luogo sorprendente per il viaggiatore solitario in cerca di una combinazione di avventure naturali, storiche e balneari. Passeggiare per le antiche strade di pietra di Dubrovnik o di Spalato, entrambe patrimonio dell'UNESCO, è come fare un tuffo nel passato, con le loro possenti mura, i palazzi storici e i suggestivi scorci sul mare adriatico. La Croazia offre anche opportunità per il trekking e l'esplorazione, con luoghi come i laghi di Plitvice e il Parco Nazionale di Karka Pae, dove si può ammirare una serie di splendidi laghi, cascate e fauna selvatica. Non dimenticare di assaggiare la cucina locale, che varia da regione a regione, con specialità come l'agnello all'istriana, l'olio d'oliva dalmata, i tartufi e il vino locale, tutte esperienze che arricchiranno il tuo viaggio in Croazia. Copenhagen, la capitale della Danimarca, con le sue piste ciclabili, le case colorate del porto di Niavne e il design moderno danese, offre un'esperienza unica al viaggiatore solitario che cerca una combinazione di storia, cultura e stile di vita sostenibile. Farsi un giro in bicicletta per le strade di Copenhagen, visitare il famoso Parco di Tivoli, o fare una passeggiata nel Giardino Botanico, sono solo alcune delle esperienze rilassanti e gratificanti che questa città può offrire. Non si può perdere la visita al quartiere di Frittown Christiania, un'enclave unica autogovernata con una comunità di artisti, che offre un punto di vista alternativo sulla vita a Copenhagen. E non dimentichiamoci del cibo, un'avventura culinaria a Copenhagen potrebbe portarti a provare Smrebread, i tradizionali panini aperti danesi, o a visitare i food hall come Torve Allerne, dove si possono assaggiare le delizie locali e internazionali. Malta, un arcipelago nel cuore del Mediterraneo, offre al viaggiatore solitario un'esperienza unica, ricca di storia, cultura e bellezze naturali, con le sue città fortificate, i templi megalitici e le acque cristalline. Esplorare la capitale, la Valletta, con le sue strette strade acciottolate, le chiese barocche e i giardini con vista panoramica sul porto, è come fare un viaggio nel tempo, tornando all'epoca dei Cavalieri di Malta. Per una dose di avventura, si può fare snorkeling o immersioni nelle limpide acque blu di luoghi come la Laguna Blu a Comino, o esplorare la grotta di Calypso sull'isola di Gozo, legata alla leggenda di Odisseo. E non dimenticare di assaporare la cucina maltese, un mix di influenze siciliane, nordafricane e britanniche, prova il pastiz, laftira o il rabbit stew per un'immersione autentica nei sapori dell'isola. A noi, la capitale del Vietnam, offre al viaggiatore solitario un'esperienza vibrante e ricca, con le sue strade animate, l'architettura coloniale francese, i pittoreschi laghi e una cultura culinaria deliziosa. Un giro nel quartiere vecchio di Hanoi è un'esperienza indimenticabile, con il suo labirinto di strade trafficate, le botteghe di artigiani, i banchetti di street food e l'energia incessante, che ti faranno immergere nella vita locale. Una visita al mausoleo di Ho Chi Minh, al Tempio della letteratura o al Museo Etnografico del Vietnam ti offre un'approfondita conoscenza della storia e della cultura del Vietnam. Infine, non dimenticare di provare la fo, la zuppa di noodle vietnamita, o il chia fétrung, un caffè all'uovo, in uno dei tanti caffè della città o nelle bancarelle per strada, per un'autentica esperienza culinaria vietnamita. Il Marocco, con i suoi paesaggi vari, le città colorate e la ricca cultura berbera e araba, offre un'avventura indimenticabile per il viaggiatore solitario, tra deserti, montagne, medine antiche e mercati affollati. Esplorare la medina di Marrakesh o di Fès, entrambe patrimonio dell'UNESCO, è come fare un viaggio nel tempo, tra le strette strade labirintiche, i souk pieni di merci colorate e gli edifici storici come la Madrasa di Buinania o il Palazzo Bahia. Il Marocco offre anche avventure naturali straordinarie, come un tour nel deserto del Sahara su un cammello, un'escursione nelle montagne dell'Atlante, o un momento di relax nelle spiagge di Essaouira o di Agadir. Non perdere l'occasione di provare la cucina marocchina, con i suoi sapori speziati e le sue tradizioni culinarie, una taggine di agnello, un piatto di couscous, o una tazza di tè alla menta in un caffè locale rendono l'esperienza di viaggio in Marocco ancora più ricca. Abbiamo viaggiato insieme attraverso i continenti, esplorando le meraviglie di queste affascinanti destinazioni, perfette per un viaggio da soli. Spero che vi siate divertiti tanto quanto me in questo viaggio virtuale e che vi abbiate trovato l'ispirazione per la vostra prossima avventura. Ricordate, il mondo è un libro e chi non viaggia legge solo una pagina. Quindi prendete il vostro zaino e preparatevi a scrivere la vostra prossima storia. Se avete apprezzato questo video, per favore, mettete un like e iscrivetevi al canale per più contenuti di viaggio. Non dimenticate di attivare le notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video. Alla prossima, buon viaggio a tutti! Ciao!